Quali probiotici assumere? Probiotici innanzitutto cosa sono? Sono quelli che un tempo chiamavamo fermenti lattici, ma per essere chiamati probiotici devono essere dei fermenti vivi e attivi e devono poter dare un beneficio alla salute della persona che li assume. I probiotici da assumere nei primi due trimestre di gravidanza sono dei probiotici a base di bifidobatteri, che sono i batteri di cui il nostro bambino necessita, quindi sono quelli che dobbiamo passare a livello placentare, ma sono anche quelli che ci aiutano in caso di stitichezza, quindi abbiamo un duplice effetto positivo su mamma e su bambino. Nell'ultimo trimestre di gravidanza invece consiglio di cambiare, di prendere invece dei probiotici a base di lattobacilli, che sono i microrganismi che dovremmo trovare nel canale vaginale materno. Questo perché? Perché prepariamo il corpo della mamma al parto, perché la seconda grossa colonizzazione dell'intestino del vostro bambino avviene proprio durante il parto.